A 7 anni e 6 mesi dal terremoto scende il sipario oggi sulla max inchiesta sui crolli avviata dalla procura della Repubblica dell'Aquila dopo il terremoto e partita con l'allora procuratore Alfredo Rossini. Il termine che scade come sapete è quello dell'estinzione per prescrizione dei reati in particolare quelli di omicidio, disastro e lesioni di volta in volta contestati tutti o solo alcuni ai presunti irresponsabili fissato appunto dalla legge a 7 anni e mezzo. 200 i filoni iniziali 19 dei quali sono approdati in aula a non concludersi per la prescrizione saranno soltanto due processi dunque. Pochi giorni fa ricorderete la sentenza per il processo satellite che ha riguardato l'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso, sentenza che lo ha visto assorto ma non ancora definitiva in quanto le motivazioni saranno depositate entro tre mesi e dunque in corte d'appello ci si potrebbe ancora appellare. I due soli filoni che termineranno con la prescrizione sono quelli per il crollo in via d'annunzio e per il crollo in via Sturzo dove c'è un unico imputato. Su 19 filoni quindi le sentenze definitive sono state 17, di questi i casi giunti fino al giudizio di Cassazione sono stati 6. Le tre condanne principali sono quelle per i crolli del convitto nazionale, la casa dello studente e la facoltà di ingegneria, mentre tra le tre assoluzioni c'è quella per la commissione Grandi Rischi, senza dimenticare quelle per la via Generale Rossi e via 20 Settembre al numero civico 123. Sono tre i processi che si sono conclusi in corte d'appello con assoluzioni per i crolli in via 20 Settembre 79, via Le Persichetti e una condanna minore invece per via Miloni a Pettino. A diventare definitive già in primo grado sono state due sentenze di assoluzione in cui l'accusa stessa ha chiesto di scagionare gli imputati nei casi dell'ospedale San Salvatore e del palazzo in via Roma al civico 18. Inoltre ci sono anche 6 procedimenti legati a crolli con molte vittime mai approdati al dibattimento per decesso degli indagati o per loro impossibilità di stare in giudizio e ci riferiamo a via Campo di Fossa, via Poggio Santa Maria, via Cola della Matrice, via Corridoni, via Gualtieri Docre e hotel Duca degli Abruzzi. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria dell'Aquila hanno deferito all'autorità giudiziaria il rappresentante legale di una società affidataria di lavori di ricostruzione di un condominio gravemente danneggiato dal sisma del 2009 che attraverso due false autocertificazioni attestanti l'avvenuto pagamento di un subappaltatore aveva ottenuto indebitamente il pagamento di due stati di avanzamento lavori per un importo di oltre 350 mila euro. L'imprenditore è stato denunciato per indebita percezioni e derogazioni a danno dello Stato e nei suoi confronti è stato disposto il sequestro di 14 mila euro somma corrispondente all'importo della fattura non pagata all'impresa subappaltatrice pur avendo quest'ultima regolarmente svolto e concluso i lavori affidati. L'attività portata a termine nelle ultime ore si inquadra in un più ampio contesto investigativo che vede le fiamme gialle impegnate già da tempo in mirati accertamenti volti alla verifica dell'autenticità delle autocertificazioni prodotte dagli affidatari dei lavori di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma in relazione all'avvenuto pagamento dei subappaltatori o dei fornitori. Infatti gli affidatari dei lavori di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma che omettono il pagamento dei propri fornitori non assumono alcun rischio d'impresa e trattenendo tutti gli utili privano di preziose risorse finanziarie le imprese più piccole determinandone spesso se non il fallimento quantomeno una sofferenza finanziaria. Il Dipartimento di Fisica e Chimica dell'Università dell'Aquila festeggerà il 14 e 15 ottobre prossimi i suoi primi 50 anni. Venne istituito infatti negli anni 60 sotto la guida del professor Ricamo al quale sarà dedicata una targa commemorativa. Siamo fisici quindi diciamo il nostro primo scopo è quello di fare ricerca cioè di fare gli scienziati però chi si iscrive a Fisica ha altri sbocchi che sono attività di servizio come nella scuola infatti andiamo a dare un riconoscimento, una targa di riconoscimento per esempio a un docente che si è fortemente impegnato nell'insegnamento della fisica nelle scuole e poi ci sono altri settori, settore privato ma anche dei settori inaspettati che ne sono come la polizia scientifica, la fisica medica un fisico trova diverse collocazioni oltre che fare ricerca e stare nel laboratorio. Slogan della manifestazione è identificarsi per identificare come spiega il professor Visconti a sottolineare la passione, lo studio e il rigore scientifico che hanno contribuito a far crescere e distinguere l'Università dell'Aquila nell'ambito della ricerca scientifica italiana ed europea. Il nostro dipartimento si è occupato di settori che non venivano abbattuti in altre università e il secondo è che questo ha dato luogo poi a interessi che hanno portato alla costituzione di cose come il GSSI e il laboratorio del Gran Sasso. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!